Era stato un po' così lasciato andare, adesso invece ci ha ripreso grazie all'amministrazione e grazie alla direzione del parco dell'amico Mario Bottino, devo dire grande vitalità e grande proposta non solo sportiva ma anche qui. La seconda posizione passa Montrazio a seguire il Sistema. Marzio lascio subito a te per la premiazione. Grazie. 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 Grazie.